allunga la sfera Balocco riesce a respingere Petrucci prova la conclusione blocca a terra Rostagno dalla bandierina Palomba crostagliato Odisio di testa e poi il gol del Lazio dovrebbe aver segnato ancora Lulai esulta Daniele Lulai che probabilmente ha sporcato il colpo di testa di Odisio 24 sul cronometro 1 a 0 Lazio ancora a lottare nello stretto le due squadre sottile con l'imbucata per Chira 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 il salvataggio sulla linea di Cataldi Palamides non va molto lontano Bernardinis ha raccolto il pallone propone il cross e Cataldi di testa pallone buono per il destro di Olivero che da posizione invitante non inquadra lo specchio della porta è una punizione già battuta dal Piemonte Valle d'Aosta Aversano a puntare Cataldi le finte del numero 7 doppio passo va sul mancino mette il cross sul palo lontano c'è tutto solo il numero 6 traversa e poi il gol e poi il gol ha pareggiato il Piemonte Valle d'Aosta con il tiro di Olivero Olivero lotta nei presci della linea di fondo con Palomba poi il cross dentro il gol del Piemonte Valle d'Aosta con Aversano la conclusione vincente del numero 7 trovato libero nel cuore dell'area di rigore prova a intervenire Prodan ma non riesce a tenerla fuori dalla porta Scanavino pallone dentro sul secondo palo prova ad arrivare Maiolo poi al volo greco quindi il tiro di Aversano che si stampa sul palo stiora il 3 a 1 il Piemonte Valle d'Aosta Bagliesi dalla bandierina sulla traversa Odisse da due passi e poi anche Cataldi c'è fallo di mano calcio di rigore il via libera di Vranicic parte Bagliesi col mancino chiude la conclusione e pareggia l'incontro 2 a 2 tra Lazio e Piemonte Valle d'Aosta adesso è la via libera di Vranicic parte Scanavino Prodan aveva intuito l'angolo ma non ci arriva per un soffio quel portiere naziale fischio dell'arbitro Moauro contro Rostagno parte Moauro Rostagno la conclusione con il destro di Maiolo che batte Prodan ha messo giù la sfera Leonardo Disio parte lui con il destro stavolta riesce a battere Rostagno torna a distanza di gollo in Lazio parte Greco con il destro Greco spiazza Prodan adesso è lui a presentarsi dagli 11 metri Cortoni col piatto centrale parte Cavazza col mancino ancora alla destra di Prodan ancora spiazzato il portiere naziale che dà adesso il via libera a Lulai la rincorsa di Daniele Lulai Lulai col destro spiazza Rostagno su un destro educato quello di Amendolaggini che ha battuto quasi tutti i piazzati parte Amendolaggini e Prodan ma la palla passa aveva intuito il portiere naziale che arriva ad impattare il rigore di Amendolaggini incredibile però la palla passa all'angolino e dunque in semifinale ci va il Piemonte Valle d'Aosta grande beffa per il Lazio che però ci ha regalato comunque tante emozioni recuperando il punteggio in inferiorità numerica grazie a tutti